ma non c'è nessuno no, meno male, torniamo in studio approfittiamone buonasera che è successo? ho fatto un incidente, però non mi sono fatto niente purtroppo non si è fatto niente grazie, l'avrei che è successo? ho investito una bestia a Roma queste cose succedono è vero, è vero ma cosa c'è nel sacco? respirava ancora? si, si, respirava, parlava proprio ma come parlava proprio? diceva il clima è importante inclinato il pianeta ma lei è investito un attivista è una persona ma come persona adesso? uno con i rasta, l'orecchino comunque tranquilli dopo magari lo libero ma come magari lo libera? dove lo libera? nel bosco, nel suo habitat così si può scivare delle cose che mangiano loro il pianeta dovrebbe interessare anche lei altro che seitan e cose che dice e poi guardi che magari non le piaceranno i metodi di questi attivisti però questi ragazzi protestano per il cambiamento climatico appunto anche voi che fate la megafona a questa disinformazione ma quali disinformazione? bravi bravi ma perfetto magari anche voi volete le auto elettriche ma certo magari si parte delle auto elettriche e si finisce sul carro del gay pride ma l'arbetta di dire buffonate il cambiamento climatico sta già creando delle vittime sotto gli occhi di tutti effettivamente questo è vero oh finalmente ragiona colpisce persone che hanno un colore della pelle diverso dal nostro anche si una religione diversa dalla nostra e che spesso arrivano qui in Italia su dei barconi mi sto commovendo finalmente lei ha capito il problema dei migranti bravo no no che migranti io parlo dei pretorrieri sauditi ma cosa? è una minoranza anche quella sono l'1% della popolazione questo è vero però vanno tutelati ma che tuteliamo solamente le minoranze che piacciono a voi facciamo due pesi e due misure ma che due pesi e due misure vabbè vabbè lei ha cambiato ancora ministero però adesso è ministro dell'ambiente e delle trivellazioni petrolifere ma scusi ma non è che niente niente questo fatto di tutelare i petrolieri lei per caso ha degli interessi col petrolio? no che interessi no no al massimo ora ho redditato da nonno un casolare nella campagna dell'Abbissina ma per dire è lì se c'è un po' di petrolio io nel tempo libero lo raffino ma come? ma non è un hobby eh è come che si fa il vino in casa io faccio qualche barile poi lo vendo agli amici ah sì? se ce l'ho qui ce l'ho qui ma cosa ha lì? petrolio fatto in casa eccolo qua di quello buono eh sì tu mi dasti senza solfidi questo qua lo faccio io roba naturale se lo porti a cena fai un figurone lei di ambiente non capisce nulla questo è proprio non mi dite così io ci tengo ci tengo all'ambiente ah sì? anzi guarda ora io sono contro l'abbandono dei rifiuti sì e ora che mi ci fate pensare guarda il manifestante non lo lascio nel bosco ah no? e che ne fa? senti il sacco di prima con il manifestante me lo butti nell'umido ma come nell'umido? ma senta ma di cosa sta parlando? non si dica che non faccio la differenziata sì va bene ti ha l'abbandono dei rifiuti ti ha l'abbandono dei rifiuti ti ha l'abbandono dei rifiuti